Alla trasmissione fatto di Reteotto, Luigi Di Maio, Vice Premier, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Chiude una due giorni in Abruzzo, dove è stata più volte la penultima all'Aquila. Ha avuto modo in queste settimane, ma anche in queste ore, di avere davanti lo spaccato di una regione che, come tante, soffrono a cavallo tra il Meridione e il Nord, al quale non ancora riesce ad agganciarsi. Quali sono i punti più importanti del dossier Abruzzo che le riporta tornando a Roma dopo questi due giorni? Sicuramente lavoro e aziende. Stiamo lavorando a più non posso per rimettere in moto stabilimenti che avevano chiuso perché delle multinazionali se ne erano andate. Tra questo la Onewell, che riaprirà i battenti con un nuovo investitore e quindi ridarà posti di lavoro. E poi il tema dei giovani e dei meno giovani che hanno perso il posto di lavoro e non hanno più un'azienda o un datore di lavoro. E su quello il tema del sistema di formazione del reddito di cittadinanza sarà fondamentale, che non si baserà solo sui centri per l'impiego. A me non importa, pubblico, privato, l'importante è che un ragazzo che ha perso ogni speranza di trovare lavoro in Italia, adesso possa avere un'occasione, anche in Abruzzo, di formarsi per essere reinserito. Abbiamo tanti ragazzi in depressione che stanno per farsi un biglietto per Londra di solo andato, per Berlino di solo andata. Devono restare qui e come ministro del lavoro ho questo obbligo, ma anche come 32enne italiano che sa che cosa stanno passando i suoi coetanei. Lei ha ascoltato le voci degli imprenditori e le voci dei lavoratori disperati perché hanno perso momentaneamente il loro posto, questa mattina davanti ai cancelli della Onewell. Si tengono insieme queste due cose? Gli imprenditori e i lavoratori molto spesso combattono insieme le stesse battaglie. Sono frutto della troppa burocrazia, delle troppe tasse e del fatto che in questi anni non ci siamo fatti rispettare a livello nazionale e internazionale come governi. Oggi dobbiamo cominciare a farci rispettare. Per fare questo la prima cosa che dobbiamo fare è che quando viene qualcuno a investire in Italia noi gli apriamo le porte, gli stendiamo i tappeti rossi, ma poi pattichiare amicizia lunga. In Italia ci resti perché se utilizzi le nostre manovalanze, i nostri lavoratori abruzzesi ad esempio, qui devi restare perché sono quei lavoratori che ti hanno fatto grande. Gli imprenditori invece, gli imprenditori con questa legge di bilancio avranno la metà del costo sull'Imu, sui beni strumentali, sui capannoni che spero entro il 2019 di eliminare. Elimineremo le sanzioni per la fatturazione elettronica finché non avremmo fatto un po' di ordine, è un inferno per gli imprenditori e abbasseremo il costo del lavoro rivedendo i premi INAIL che gli imprenditori pagano ancora su un calcolo degli anni 90 e che invece aggiornerò ad adesso e risparmieranno il 30%. Infine i debiti della pubblica amministrazione. Mercoledì in Consiglio dei Ministri ho approvato un decreto che è già legge. Tutti gli imprenditori che aspettano soldi dal Comune, dalla Regione e non riescono ad averli avranno un fondo di garanzia che gli garantirà i fidi, gli garantirà i prestiti che non riescono più a pagare perché aspettavano soldi dallo Stato e non sono stati pagati. Le scelte per lo sviluppo, questi primi 5 miliardi in manovra, perché avete deciso di indirizzarle dando un ruolo prioritario ai Comuni? Perché dobbiamo spenderli il prima possibile per mettere in sicurezza il territorio. Questo è un paese, l'Italia, in cui si muore ancora per pioggia. 5 miliardi di euro, maggioranza di questi fondi saranno destinati a dissestero geologico, quindi sicurezza del territorio e adeguamenti antisismici, quindi case, palazzi e uffici pubblici che devono avere norme antisismiche, che devono essere fatti a norma dal punto di vista antisismico. Questo rimetterà in moto l'edilizia, ma i sindaci devono avere norme speciali per spenderli, altrimenti questi sono soldi che si bloccheranno. Ed è per questo che faremo delle norme che consentiranno ai Comuni di spenderli subito, le aziende del territorio avranno nuove opportunità, ci saranno nuovi posti di lavoro, ma soprattutto mettiamo in sicurezza un territorio che è ridotto veramente male. Sui numeri di questa manovra è in corso un negoziato a Bruxelles, proprio mentre andiamo in onda. Quali sono le sue aspettative, soprattutto alla luce del fatto che siete accusati di esservi rimangiati le promesse in questa nuova negoziazione? Questo è un accordo che si fonda su un principio. Dobbiamo mantenere le promesse con gli italiani e io garantisco qui che le pensioni minime saranno aumentate a 780 euro per tutti i pensionati in difficoltà, le pensioni di invalidità saranno aumentate a 780 euro per tutti gli invalidi in difficoltà, il reddito di cittadinanza si farà e quota 100 per superare la Fornero si farà. Le platee non cambiano. Come sono partite queste norme? Così arrivano e ci sarà un accordo se si rispetteranno le promesse, altrimenti non ci sarà un accordo in Europa perché l'alternativa è tradire gli italiani e noi gli italiani non li vogliamo tradire. In Francia si scende in piazza per chiedere cose che noi stiamo mettendo nella legge di bilancio, quindi siamo sulla strada giusta, altrimenti anche qui, poi, se tradiremo gli italiani e non vogliamo farlo, ci ritroveremo le piazze piene e gente arrabbiata. In Abruzzo si voterà il 10 febbraio, si dovrebbe votare il 10 febbraio perché c'è qualcuno che... Si voterà, si voterà, si voterà il 10 febbraio perché adesso c'è questo gioco che si dice ma perché non facciamo election day che risparmiamo un po' di soldi? Io dico una cosa, prima ci liberiamo di questi signori, prima cominciamo a risparmiare un po' di soldi, visto e considerato che la loro permanenza in regione e nel Consiglio regionale farà soltanto una cosa, continuare a sprecare risorse inutili che dobbiamo tagliare da vitalizi, sprechi della pubblica amministrazione e sprechi della politica. Voi avete puntato su Sara Marcozzi, protagonista di una stagione di opposizione rispetto al centro-sinistra, è il primo partito del Movimento 5 Stelle in questa regione. Può essere questa la prima regione di un governatore, di una governatrice pentastellata? Sara Marcozzi non è una persona su cui abbiamo puntato, Sara Marcozzi è il Movimento 5 Stelle in Abruzzo, l'ha costruito lei insieme agli attivisti, insieme a tutti gli eletti e oggi noi sosteniamo Sara alla presidenza della regione perché crediamo che questa regione possa veramente cambiare. Io le faccio un esempio, noi a livello nazionale da gennaio partiamo con queste misure che le ho detto, ma per esempio a livello di sanità, la sanità è regionale, il Ministro della Salute prova ogni giorno a fermare la svendita della sanità alle privatizzazioni, ma se non prendiamo le regioni la sanità sarà sempre in mano ai soliti partiti. E soprattutto il Movimento qui in Abruzzo se la può giocare, poi decideranno gli abruzzesi. Io credo che un presidente di regione come Sara Marcozzi con l'esperienza di 5 anni in consiglio regionale e la conoscenza a fondo del bilancio della regione saprà dover andare a mettere le mani per tagliare tutto quello che non serve e ridarlo nei servizi essenziali degli abruzzesi. Quanto sarà utile a questo proposito una filiera con il governo nazionale, con la sua presenza appunto al governo? Guardi, questo governo è dalla parte di tutti gli amministratori che vogliono fare del bene per i propri concittadini, quindi non c'è un pregiudizio verso alcuni sindaci e alcuni presidenti. Sapere che l'Abruzzo dopo tanti anni di amministrazione di centrosinistra che non ha portato nient'altro che favori ai soliti noti, aiuti ai soliti noti, sicuramente permetterà al nostro governo di agire meglio per gli abruzzesi. Cioè sapere che hai un governo in cui Sara Marcozzi come presidente della regione quando ha bisogno di qualcosa può chiamare a Roma e ha a disposizione sulle stesse sensibilità ministri, sottosegretari e gruppi parlamentari è un vantaggio sicuramente in una regione come questa. Ecco, un'ultima notazione per chi ci ospita, una società ma un consorzio di lavoratori del miele che hanno fatto di un paese di mille abitanti una realtà che produce il 10% di questo prodotto per l'Italia. Quali sono le insidie a cui vanno di fronte e quali sono le risposte che possono giungere dal vostro sostegno? Sono vittime sicuramente della burocrazia, nel senso che c'è una burocrazia in leggi che gli rende la vita un inferno. Sapere che ogni regione fa una legge sul mondo dell'apicoltura diversa dall'altra regione non agevola la vita di apicoltori che per loro stessa natura sono nomadi nelle loro culture. Detto questo, queste persone ci hanno reso grandi nel mondo perché il Made in Italy nasce proprio da aziende familiari come quella in cui sono e che permette di farci conoscere in tutto il mondo per i nostri prodotti di eccellenza. Abbiamo un debito con loro e come Ministro dello Sviluppo Economico e Vice Premier ce la metterò tutto per estinguere questo debito che abbiamo nei loro confronti. Grazie Luigi Di Maio, grazie ai nostri telespettatori, ci vediamo presto anche durante la campagna elettorale per le regionali perché abbiamo l'impressione che sarà spesso dalle nostre parti. Grazie a voi.